Ma come è possibile che abbia vinto lui diciamo che in questo gioco bisogna sempre stare attaccati al muro perché sennò Ciao a tutti ragazzi io sono Suri e benvenuti in questo nuovo video di minecraft minigames. Oggi non sono da solo sono i compagni di Minogilda che trovate alle mie spalle Salve ragazzi ben trovati Un uomo senza faccia Trovate il suo link in descrizione se volete scrivere il suo canale davvero a dei video divertenti e mi è spoilerato appena un video che sta per uscire che ti consiglio di andare a vedere sarà già uscito ormai Eh sì 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 ragazzi 5% iscritti è andato sicuramente a riguardo e lasciato un bel mi piace anche Quindi siamo qua a fare dei minigames andiamo a fare il preferito di Mino che è Evolution Evolution, Evolution ragazzi che è che è la morte che è la morte su è perché queste ragazzi è bisogna stare attenti a non prenderlo in quel posto dalla gente che si nasconde diciamo che in questo gioco bisogna sempre stare attaccati al muro perché sennò Via 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 eccolo eccolo ciao ciao bello ciao bello ciao bello Oh No ma hanno ucciso ma hanno ucciso diciamo Eccolo però t'ho visto t'ho visto Avere la meglio no T'ho visto T'ho visto Ok ucciso ucciso scappa 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 Un lag incredibile Ok questo non mi insegue in realtà sì Ok stanno combattendo tra di loro Rivolgiamoci Prima evoluzione Vai 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 scappa 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 vai Evolviti 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 Vai 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 blades Oh ce la facciamo Vai blades vai blades Eh non devono andare nell'acqua ma Si infatti stiamo attenti all'acqua L'acqua non è nostra amica Ancora cattiva Ancora cattiva C'è già un po' che è a livello 2 Bene Vediamo che C'è un po' che si può rinunciare Nooo Non penso Ragazzi io nel pvp faccio schifo Ma non poco eh Tanto Abbastanza Ok non no no Non gli evolvi 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 Fagli male Evolvi 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 Fagli male Evolvi Fagli male Evolvi Fagli male Evolvi 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 Ma come è possibile che abbia vinto lui A56 Prendelo 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 Prendilo Prendilo raglio Ma come è possibile Com'è possibile Sto facendo evolverire tutte queste persone mi sta aiutando a vincere ho preso è incassato nella sua stessa ragnetti era bene no però mi ha ucciso ok vediamo ucciderlo qua ok c'è un creeper che si sta evolvendo non lasciamolo evolvere grande ragno che mi ha aiutato l'ho ucciso in realtà vai corri 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 scappa cernesi corri prima che ti esplosioni vai vai che non t'hanno visto vai che non t'hanno visto vai che non t'hanno visto andiamo a 2 però siamo volenti oggi oggi siamo volenti eh ma anche gli altri eh oh no ecco l'ho detto è passata a 4 è passata a 4 ore una giornata vai vai scappa 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 nooo falli male falli male oh non so vai 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 ma cosa serve questo creeper se clicchi puoi prendere il daily reward vediamo cosa mi esce 100 gemme perfetto no e cosa costa? niente il giornaliero è gratuito eeeh ok cosa devo cliccare per? la cesta centrale se mi sbaglio processing e vedi in chat quello che hai vinto ho vinto 100 gemme 100 resource short e 25 esperienze 250 di esperienza uguale si stesse cose ok non sapevo che c'era uno giornaliero bella questa cosa si inizia attenzione attenzione oh bello questo cosa secondo il mesa vai io sono rosa e vai sono rosa sono rosa sono rosa sono la pecorella rosa sono la pecorella rosa sono la pecorella rosa ma eeeh oh ecco dicevo eeeh ho anche perso e vai eeeh ho anche perso e va non ti vedo dove sei? ah è quello lì perfetto a posto come porto fortuna io ragazzi quando parlo io questa cosa prima o poi la farò anche in minecraft vanilla eh io voglio tutte le pecore attaccate una a una e vado in giro così con uno stack di lead attaccate tipo si 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 ok bene abbiamo perso stranamente anche questo e infatti vai 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 e lì ragazzi dovremmo vincere dovremmo eh dovremmo prendiamo un kit qualsiasi poi ce ne sono tanti ah forse è tantissimo cioè io non so per eh ragazzi ci fanno spendere così tanto ogni volta io non capisco dai concentriamoci 3d1 via vediamo un po' ah questo è vecchio perfetto te lo ricordo ok stiamo qua dovrebbe essere facile eh non so sicurazione chiamata no dovrebbe essere facile ok guarda ti da anche i colori ti da via esatto per modalità più facile questa qua ok ok 20 secondi addirittura no ah vai via ok perfetto ah dice ah perfetto ecco ti qua ti vedo noi siamo lenti ragazzi andiamo da qua col pop al massimo eccolo qua che costruisce perfect match eh questa era facile eh vabbè oh guarda guarda lui è sbagliato no nessuno è sbagliato eccolo guardalo via ora va bene tutto però ha fatto le porte più larghe questo qua ciao bello ciao ok eh lei subito anche questo qua o cos'è survival games ah ganso survival games ah ok ho capito ok mettiamo subito io inizio con le ceste si 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 subito le ceste a vero ma le ceste anche nel solito modo eh non lo saprei sai se va bene verso l'interno eh infatti boh io le ho messo per evitare problemi le ho messe come erano ok sono quasi alla fine perfect match però mi sei buggato mi senti ancora? si 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 ti sento ah ok pensavo di essere cacciato il mio c'è ancora 8 slab alimentari ma ho fatto perfect match vabbè vedi io perfect match no quindi vuol dire che sono al contrario no sei l'unico veloce no davvero aspetta mi chiamo un po' no eh non mi di che ero al contrario no eh no quanto? ma ha eliminato uno no deve essere la sesta 2 dai via ma solo per le ceste vabbè guardiamo su riven perfetto si sei primo perfetto match e sei primo grandissimo no l'occhietta dietro dietro bravissimo ok perfetto match perfetto si era più esatto più grande no però il secondo il secondo ah ok no 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 ho vogliato non era il secondo il secondo il secondo strato era più largo non era come il primo no 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 ha già fatto il percorso vedi vedi come ha fatto lui il secondo era più grande largo così si no 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 ci avevamo quasi fatta vabbè dai secondo 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 siamo arrivati a foglio come avevamo detto dai dai grandissimo grandissimo direi che può finire qui questo video ringrazio Milo Gilda per essere stato con noi grazie a te su riven in descrizione e come sempre certo un bel mi piace se avete visto questo video commentate se avete consigli per altre mappe e modalità di gioco da fare eeee ciao a tutti ciao ragazzi lì nello studio dai iscriviti al canale dai tu iscriviti dai marimari 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 ciao tu iscriviti 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 canale